Ciao a tutti. Nel video di oggi vi mostrerò come rimuovere i controlli dal centro di controllo su iPhone iOS 18. Con l'ultimo aggiornamento di iOS 18, sono stata portate alcune modifiche al centro di controllo del vostro iPhone. Ora, se desiderate rimuovere dei controlli dal centro di controllo, non dovete più utilizzare le impostazioni. Basta scorrere verso il basso nel centro di controllo e fare clic sul simbolo più in alto a sinistra. Successivamente, vedrete il simbolo trattino accanto a tutti i controlli. Potete semplicemente cliccare su trattino per rimuoverli. Ad esempio, se aggiungo un controllo, per rimuoverlo basta cliccare sul simbolo trattino accanto a quest'ultimo. Inoltre, potete ridimensionare i controlli, semplicemente trascinando per ingrandirli o rimpicciolirli, come potete vedere. Se questo video vi è stato utile, lasciate un mi piace e iscrivetevi al mio canale per altri video fantastici come questo. Grazie per aver guardato. Grazie.